buongiorno anche oggi facciamo i tarocchi degli angeli custodi allora il messaggio di oggi dagli angeli dice è più che altro 8 di abbondanza è il momento di accrescere il tuo sapere e affinare le tue competenze è possibile che ti venga l'improvvisa ispirazione di tornare a scuola frequentare seminari su argomenti che ti affascinano e imparare le arti di guarigione è un buon periodo per continuare a lavorare e a ricevere una per ricevere una promozione la chiave del successo è nei dettagli verifica con cura i tuoi progetti è il momento di accrescere il tuo sapere e affinare le tue conoscenze studi argomenti che ami o che sono utili per la tua professione qualunque sia è possibile che tu senta l'esigenza di frequentare corsi universitari o seminari o di sviluppare capacità spirituali per aiutare per aiutare gli altri nella guarigione importanti scelte di vita richiedono ulteriori ricerche prima della decisione definitiva sia orgoglioso del tuo lavoro prenditi un po di tempo in più per completare un tuo progetto se questo serve a raggiungere livelli di qualità molto più alti il significato ulteriore di questa carta dice cambiamenti di lavoro con successo miglioramento personale e dedicati ai tuoi talenti concentrati anche sui dettagli questo è il messaggio di oggi degli angeli vi auguro una buona giornata